eccoci ragazzi a un'altra nuova recensione oggi andiamo a vedere un gioco in questo caso una hack rom possiamo chiamarlo così di pokemon dei pokemon in versione fisica perché per game boy e all'interno della quale andremo proprio a trovare la cassettina la cartuccia per il game boy ma intanto cerchiamo di capire un attimo di cosa si tratta questo è plaguemon questo gioco è una a chrome nasce come a chrome della versione pokemon rosso per il game boy la persona che l'ha prodotto è un artista definiamolo italiano che ha creato appunto questa versione di pokemon rosso in versione post apocalittica questa qua è la cassetta della versione anniversary della versione anniversario e appunto ci arriverà in edizione fisica è stata è già esaurita io ve lo dico questa è una è una super limited edition perché ne sono state davvero fatte pochissime e chi è stato fortunato è riuscito ad accapararsi una versione una confezione di questo gioco che vi ricordo comunque essere disponibile anche in rom da poter scaricare direttamente sui vostri vari emulatori e poterla giocare tranquillamente cos'è come vi dicevo è un una chrome del pokemon rosso in versione post apocalittica andiamo un attimo a vedere come ci si presenterà la confezione nel momento in cui noi andremo a ordinarlo quando poi sarà ancora disponibile di nuovo perché adesso non è dato sapersi se quando saranno nuove ci saranno nuove riedizioni di fisiche di questa cartuccia di questo gioco ci ritroveremo queste confezioni ogni volta c'è una confezione differente però appunto noi abbiamo qui la versione anniversary dove vi viene spiegato appunto di cosa si tratta come proprio le varie cartucce le varie confezioni per il game boy andiamo ad aprire la nostra confezione la nostra confezione ci si presenterà all'interno così allora io vi dico subito all'interno è vuota ok troverete solamente la vostra cartuccia io ho aggiunto personalmente uno di quei di quelle confezioni che si trovavano nel game boy ok per poter alloggiare la mia cartuccia quindi comunque quando vi arriverà vi arriverà questo smontato da montare uno sticker di uno dei plug emor in questo caso metallizzato come vedete molto bello la nostra cartuccia con la confezione salva cartuccia tipica del game boy e qui noi abbiamo il nostro abbiamo un po di pluriball per evitare che la che la cartuccia si muove si possa danneggiare e qui noi abbiamo la nostra cartuccia con come vedete la parte quella esterna metallizzata anch'essa con tutte le varie descrizioni del caso anche in giapponese è buffo perché appunto rispetto alle cartucce originali ci sono delle delle avvertenze che può causare nausea e paranoia quindi insomma è molto a sia anche aspetta può causare severa depressione allucinazione nausea e paranoia è veramente allucinante questo questo gioco però è davvero fatto bene la cartuccia come vedete nintendo game boy quindi insomma proprio copia delle originali e niente andiamo un attimo a vedere in cosa consiste il gioco qua io adesso ve lo farò provare ve lo farò vedere all'interno di un game boy advance sp perché così riuscite a vedere anche meglio il gioco con l'illuminazione perché sennò sapete anche voi quant'è complicato andiamo a settare la luminosità massima ecco appunto ci sono delle informazioni la via è proprio come se fosse la classica rom per gun boy anzi facciamo una cosa vi faccio vedere sul nostro o droid la versione del di pokemon rosso così potete capire un attimo la differenza vedete qui vi fanno vedere i pokemon un attimo nostro pokemon qua invece inizia in un modo decisamente molto più tetro è molto molto differente la situazione qua praticamente cosa è successo andiamo ad avviare il gioco che così almeno riuscite a vedere avviamo avviamo il nostro gioco vediamo cosa ci dice nuovo gioco continuiamo facciamo nuovo gioco che così almeno vedete un attimo cosa succede o qua scusate ho schiacciato ho allargato la visuale non riesco a capire se si vede oppure no scusate aspetta vediamo proviamo a fare così eccoci qua allora qua inizia praticamente dicendo questo è il professor dice quanto tempo non riesce a riconoscere mi sono professore vedete ha una tuta antiradiazioni addosso dice che praticamente c'è stato questo questo questa guerra nucleare no e e tutti i pokemon sono mutati e quindi questi sono i nuovi pokemon che abbiamo adesso si chiamano plagemon andiamo avanti sono mutati sono diventati pazzi è una per una versione molto disturbata di dei pokemon che conosciamo noi questo è il nostro caro nemico che noi chiamavamo nei modi più 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 strani si richiede appunto ci chiede chi siamo andiamo a mettere i nostri nomi ecco però vabbè l'avvio è sempre molto lungo facciamo una cosa incominciamo con continua perché appunto c'è il solito avvio classico eccetera eccetera ma noi vogliamo un attimo vedere il gioco veloce pratico perché se no non finiamo più questo video quindi andiamo un attimo a vedere com'è il gioco facciamo continua vedete l'esplosione che vi dicevo facciamo continua ed eccoci qua qua vedete appunto c'è il mio personaggio io ho già scelto un pokemon c'è un plagemon e andiamo a vedere subito una battaglia di questi come vedete tutto quanto ci sono i bidoni radioattivi sul vedete se entriamo guardate le pareti sono scritte dai dai e se noi clicchiamo su questo è la ragazza che noi incontravamo nel gioco dice hi alex we fuck when we were kids quindi insomma dice che sono andati a letto quando erano piccoli è veramente straniante andiamo avanti e vediamo un attimo delle battaglie ecco abbiamo trovato il nostro picco il nostro primo primo pokemon primo plagemon vedete ogni plagemon ha un nome differente rispetto alla sua versione rossa e questa qua per esempio è scolina è il mio pokemon usa tumore come gioco come colpo qua probabilmente morirò perché ero già debole non possiamo usare niente quindi abbiamo abbiamo perso e quindi siamo ritornati all'inizio niente niente il gioco è tutto così molto particolare presenta addirittura alcuni bug proprio fatti appositamente tipo vedete adesso l'immagine per esempio mi si flash a di nero io devo ancora capire per quale motivo cos'è successo c'è c'è di sicuro qualcosa che non va devo capire che cosa sta succedendo comunque la versione attualmente in commercio è quella che andrete poi a scaricare sul vostro dispositivo in caso di emulazione siamo arrivati intanto alla versione 5 guardate vi faccio anche vedere che l'ho messa anche qui vedete c'è la versione 4.1 e la versione 5 questa è la versione 5 ed è la stessa identica appunto presente nel nostro nella nostra nel nostro qua addirittura vedete ogni tanto si flash si blocca è fatto apposta è tutto questo però è un qualcosa di disturbante creato proprio per mettervi in difficoltà e niente questo era il gioco la storia è veramente molto molto strana e voi dovete andare in giro in questa in questa in questo mondo apocalittico e catturare appunto i vostri plaguemon cercare di sopravvivere capire cosa è successo cioè è davvero strana la 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 storia in sé però è un gioco di che io vi consiglio di provare ma è solamente in inglese quindi mettetelo in conto questo che se non avete un minimo di conoscenza della lingua inglese vi ritroverete in difficoltà l'inglese è necessario indispensabile per cercare di capire appieno tutte quante quelle che sono i riferimenti al primo pokemon rosso tutte quante che sono quelle che sono le le battute sacrileghe che sono state ricreate in questo gioco ma merita merita davvero quindi magari scaricatelo e provate un attimo a capire se vi può piacere non è per tutti comunque con questo è tutto io vi saluto per questa recensione vi ricordo di iscrivervi al mio canale e se vi è piaciuto il video di mettere mi piace ci vediamo alla prossima recensione ciao a tutti grazie grazie grazie